La manovra del governo Meloni ha suscitato una serie di critiche, Banca Italia, Confindustria, Sindacati, lei come se lo spiega? Perché secondo noi è una manovra assolutamente inadeguata, è una manovra iniqua perché colpisce le persone più deboli, è una manovra senza investimenti, in un momento in cui noi abbiamo bisogno soprattutto di rafforzare le buste paga, di rafforzare il lavoro, di creare lavoro, questa manovra non dice niente su questo, non c'è niente di tutto ciò, non servirà al Paese in uno dei momenti comunque più difficili, è una manovra che non sostiene la crescita, è una manovra che colpisce molto il welfare, i servizi essenziali perché ci sono tagli sulla sanità, non c'è nessun investimento sulla scuola e tutto questo messo insieme a un'inflazione così alta significa meno sanità pubblica, meno scuola pubblica, tutto questo colpirà le famiglie che sono più deboli, tutto questo toglierà futuro alle ragazze e ai ragazzi che vengono da famiglie più deboli che saranno impedite nei loro studi ad andare avanti, nel loro protagonismo, c'è il rischio che i tagli al dimensionamento scolastico portino via più di mille scuole nel nostro Paese, insomma è una manovra di cui noi diamo un giudizio molto negativo e quindi pensiamo che la mobilitazione che i sindacati stanno mettendo in piedi sia assolutamente giusta perché serve altro al Paese in questa situazione. Confindustria ha chiesto più coraggio sul cuneo fiscale, secondo lei ci sono le condizioni per mettere più risorse su questo provvedimento? È uno dei temi perché dobbiamo fare in modo che le buste paga per i lavoratori siano più pesanti, che il reddito per i lavoratori cresca e che tutto questo costi meno agli imprenditori che quindi siano aiutati anche nel rafforzare le buste paga. Questo è un grande tema che riguarda soprattutto il manifatturiero, c'è un problema anche di mano d'opera per il manifatturiero legato a salari che sono troppo bassi. Oggi nel nostro Paese il tema del lavoro povero si lavora tanto ma non si arriva alla fine del mese, è un tema drammatico. Per questo noi in campagna elettorale e negli emendamenti adesso in legge di bilancio stiamo puntando molto sul salario minimo e sul rafforzamento delle retribuzioni. Pensiamo che poi sia un errore colpire il reddito di cittadinanza perché abbiamo soprattutto la pandemia squadernato nuove povertà, nuove diseguaglianze e colpire il reddito di cittadinanza che comunque ha dato una risposta su questo terreno, oggi in questo modo è assolutamente sbagliato.